Eccoci qua con Deganello, una super prestazione, sei contenta di questa partita, di questa vittoria? Sì, sono molto contenta, una vittoria molto sofferta, però più che meritata, sono contenta perché finalmente abbiamo rotto il cerchio della sfortuna e adesso pronti per la prossima partita, la prima in classifica e forza promo! Daremo filo da torcere a chiunque! Alla prossima!